Avvistata allo Starbust Motel nel Queens È lo stesso motel dove nascondemmo Tyson Ok, grazie Stando alla reception è nella stanza 47 La stessa in cui era Tyson Già Ecco la sua auto Le luci della stanza sono spente Senti, Castle Non sappiamo cosa ci aspetta Perciò tu resta qui, ok? Sì, prudente Andiamo Polizia! Polizia di New York! Dove è il triplo amicida? Dove si trova? No! 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 No!